Grazie a tutti. Grazie al Ministro San Giuliano, sono molto felice che sia qui con noi perché dà lustro a questo evento. Chiaramente ringrazio il Rettore dell'Università Angelicum, ringrazio il Professor Bonino, il Professor Cogliandro e il Professor Porro per essere qui con noi e aver accettato questo invito. Ringrazio tutti voi per la partecipazione perché sapete quando è venuta questa idea di parlare di San Tommaso è evidente che era una cosa un po' particolare. Non so quante volte nelle istituzioni si sia parlato di San Tommaso d'Aquino, magari tante volte, ma questo sicuro non di recente perché io non l'ho mai sentito. Ed è importante vedere che c'è interesse perché significa che potremmo farne ancora. E soprattutto io la domanda che ponevo anche ai nostri funzionari e ai miei collaboratori era comunque San Tommaso, al di là del fatto che è un grande santo e che sia stato un grandissimo studioso, è stato anche un grande italiano. E quindi insomma è giusto anche celebrare una figura di questo tipo. Ricordiamo oggi, a 750 anni, dalla sua morte, Tommaso d'Aquino, santo della Chiesa e filosofo. Come ricordava San Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et Razio, San Tommaso è sempre stato proposto dalla Chiesa come maestro di pensiero e modello del retto modo di fare teologia. Per secoli, però, è stato anche una figura di riferimento fondamentale per pensatori di ogni corrente filosofica e di ogni credo religioso. Dopo aver aderito all'ordine dominicano, frequentò l'Università di Napoli, da poco fondata da Federico II. Come insegnante e predicatore fu poi a Colonia, a Parigi e in molte altre città d'Europa. Fu apprezzato da tutti per la sua cultura profonda e per quella purezza di vita che gli valse l'appellativo di Dottor Angelicus. L'incontro fondamentale di Tommaso fu con le opere di Aristotele. Nel massimo filosofo pre-cristiano, Tommaso ammirava il rigore con cui aveva costruito un sistema della conoscenza umana interamente basato sulla ragione naturale. Da quel momento il compito che egli si prefisse fu quello di mostrare come la verità rivelata da Cristo nei Vangeli non fosse in contrasto con la ragione, ma anzi la perfezionasse e la integrasse. L'amore, amava Dio, ma dire, ci raccoglie dove la conoscenza ci lascia. Fu su queste basi teoriche che Tommaso, scrittore prolifico e instancabile, costruì la sua opera, che è un monumento di dottrina e pensiero e una sintesi magistrale del sapere umano. Nessuno, forse più di lui, favorendo l'incontro fra razionalità greca e teologia cristiana, gettò le basi della civiltà occidentale. Con gli interventi di alcuni fra i più accreditati studiosi del pensiero otomista, il convegno odierno si propone dunque di delineare un profilo di questo grande pensatore, nella convinzione che egli possa dire ancora molto agli uomini di oggi. Tommaso ebbe infatti una concezione positiva delle attività umane, ritenendo che tutte abbiano una propria razionalità rispondente a un ordine naturale gerarchicamente organizzato. Ogni attività si armonizza pertanto con le altre se non infrange quell'ordine che è stato voluto da Dio stesso. Tommaso non condanna la sollecitudine per i beni temporali, a condizione che sia svolta con moderazione e misura, che sono per lui due fra le più importanti virtù umane. L'attenzione per quei beni non deve essere perciò esclusiva, ne deve far dimenticare all'uomo la superiorità dei valori spirituali. Tommaso ha una concezione positiva anche della politica, essendo per lui l'uomo, secondo l'insegnamento di Aristotele, un essere sociale per sua natura. La politica è per lui condizione fondamentale della vita perfetta, ma a condizione che si adedita al bene comune. L'uomo politico virtuoso è colui che sa riconoscere la superiorità del tutto sulle parti, agendo di conseguenza quando necessario. È questo solo uno dei tanti insegnamenti di cui è piena la sua opera, la cui validità non è sensibile al trascorrere del tempo. A ben riflettere, l'incontro di oggi ci ricorda anche che è per noi di vitale importanza attingere all'inesauribile fonte della cultura classica. Vi ringrazio e buon ascolto. Grazie. Grazie Presidente per questa idea, intanto. Il Presidente ha avuto questa intuizione di celebrare Tommaso d'Aquino in questa sede, che era tra l'altro l'insula dominicana a suo tempo, e ha avuto questa idea di celebrare il grande italiano, l'uomo di scienza, di filosofia, modello di virtù. E anche un uomo, come diceva Chesterton nella sintetica biografia che gli dedicò, un uomo a tutto tondo, un uomo che conobbe quasi tutto dell'umanità. Diciamo quasi, facendo un po' esagerando, diciamo tranne gli aspetti deteriori. Uomo di nobili natali, sceglie di entrare in un ordine povero, con l'ostilità dei suoi. Non voglio rubare tempo ai relatori, ma è bene sottolineare questo. Un uomo di profondissima scienza, riconosciuta da una ventina di pontefici, è un numero incredibile di dottori, è anche un uomo di filosofia, non teologo ripetitore, ma addirittura uomo che osa mettere Aristotele, che all'epoca era visto come un autore pericolosissimo, accanto a Agostino e a Dionigi Aeropagita, che sono i più citati da lui come riferimento. Uomo che sviluppa questo metodo dialettico delle questiones per indagare a fondo tutte le sfaccettature di un problema e offrire una soluzione che innova, ma non cancella quello che i dottori e i precedenti hanno affermato. Quindi è un uomo anche che elabora al massimo grado l'etica delle virtù. Poi magari ci torneremo se ci sono gli spazi. Quest'etica che oggi rinasce, per merito di diversi filosofi e filosofe di varia estrazione culturale, che dà luce nuova all'antropologia, un'antropologia della persona più ricca dell'antropologia del soggetto o dell'individuo. Non rubo altro tempo ai relatori e introduco il nostro rettore dell'Università Pontificia San Tommaso d'Aquino, Angelicum, il padre Thomas Joseph White, autore di un numero enorme di pubblicazioni in teologia. Cito semplicemente il Signore incarnato, uno studio tomista sulla cristologia, oppure la luce di Cristo, un'introduzione al cattolicesimo, e la Trinità sulla natura e il mistero del Dio Uno. Ovviamente queste sono le traduzioni italiane dei testi che sono editi in inglese. Membro della Pontificia Accademia San Tommaso d'Aquino, anche musicista e appunto ha veramente dato un impulso ulteriore alle attività correlate allo studio di San Tommaso presso la nostra Università. Cedo a lui subito la parola. Grazie a tutti voi, grazie per questa opportunità, per questo discorso di persone che sono veramente grandi esperti in San Tommaso, nel questo spazio sia importante per l'identità italiana e il governo e anche per questa comunità di ricerca della verità nel questo giorno importante e simbolico per San Tommaso. Onorevole Presidente, Professor Ministro, Reverendi Padre e Sore, carissimi colleghi, studenti, cari fratelli e sorelle in Cristo, Sono molto lieto di potervi rivolgere alcune breve parole qui, introduttive, a questa conferenza che commemora i 750 anni di Dies Natalis di San Tommaso d'Aquino. Vorrei iniziare ringraziando il Presidente della Camera dei Deputati, l'Onorevole Lorenzo Fontana, per aver promosso questa importante iniziativa e per aver pensato all'Angelicum Compartner per l'organizzazione dell'evento. Sono particolarmente contento che il Dottore Angelico, che rappresenta un punto di riferimento per la nostra Università, per l'Ordine Dominicano e anche per la Chiesa Cattolica in generale, venga anche ricordato dai rappresentanti delle istituzioni dello Stato italiano, perché, oltre a essere un santo dominicano, filosofo e dialogo cristiano, è anche forse il più grande pensatore dell'illustre storia della penisola italiana. Fr. Tommaso d'Aquino, dell'Ordine dei Frati Predicatori, è morto 750 anni fa, il 7 marzo 1274, nei pressi dell'Abbazia di Fossa Nova, oggi in provincia di Latina, mentre era in viaggio verso Lione, dove avrebbe partecipato al Consiglio Ecumenico indetto da Papa Gregorio X. Il fatto che oggi, più di sette secoli dopo la sua morte, la sua eredità spirituale e intellezuale sia ancora così forte è segno della sua fondamentale importanza nella storia del pensiero. St. Tommaso è venerato come Dottore della Chiesa e è spesso anche denominato Dottor Comunis, Dottore Comune. La sua doctrina ha accompagnato fedelamente il Magistero della Chiesa nei secoli che a sua volta l'ha riconosciuta come parte integrante del pensiero cristiano. Guardando al contesto odierno, credo che il pensiero di St. Tommaso rimanga estremamente rilevante. Mi riferisco al suo contributo riguardo alla filosofia della natura umana, il diritto naturale, fondamento della giustizia sociale, la compatibilità tra fede cristiana e ragione naturale e tra le scienze e l'aspetto religioso della persona umana, un'etica fondata sulla virtù e la capacità umana di conoscere Dio. Credo che oggi più che mai il tesoro rappresentato dell'eredità intellezuale di St. Tommaso possa essere un fonte di rinnovamento, un vero punto di riferimento per la Chiesa universale e il mondo intero per un dialogo più profondo in ricerca della verità della natura umana e la nostra beneessere nel contesto cosmico in legame in relativo a Dio. I due relatori che ascolteremo a breve sono due celebri discepoli di St. Tommaso, il professor Pasquale Poro dell'Università di Torino e il padre Serge Thomas Bonino dell'Angelicum qui a Roma. Entrami hanno dato un enorme contributo al studio del pensiero di St. Tommaso nel contesto contemporaneo. Li ringrazio a nome dell'Angelicum per aver accettato di partecipare e lascio la parola al professor Giovanni Colliandro, anche lui, docente dell'Angelicum, che sarà il moderatore di questo incontro. grazie. Grazie. Quindi vado subito a introdurre Pasquale Porro, che attualmente insegna filosofia medievale e anche filosofia dantesca presso l'Università di Torino. È stato in passato professore all'Università di Bari e alla Sorbona e anche visiting professor in diverse altre università. vicepresidente in passato della Società Internazionale per lo studio della filosofia medievale e anche accademico della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino e oggi ha ricevuto il dottorato honoris causa proprio all'Angelicum per il suo studio su Tommaso e devo dire anche su diversi anche grandi autori della tradizione medievale. Mi piace citare, perché lo lessi quando ero studentello, il suo trattato su Enrico Di Gand, un autore trascurato normalmente, ma se vogliamo per vari aspetti a livello di buonaventura e potremmo persino accostarlo a Tommaso per l'influenza che ebbe a suo tempo come dottore Agostiniano. Quindi Pasquale Porro, allievo del professor Maierù, peraltro, che alla Sapienza appunto insegnò per tanti anni filosofia medievale e con piacere lascio a lui la parola per la sua relazione che cosa significa essere tomisti l'eredità di Tommaso d'Aquino nella storia del pensiero. Prego, professor Porro. Grazie. Permettetemi di ringraziare senza alcuna retorica l'onorevole presidente Fontana, l'onorevole ministro San Giuliano, il professor Cogliandro, il magnifico rettore Thomas Joseph White. Ho un profondo debito di gratitudine nei confronti dell'Angelicum, quindi sono io che devo ringraziarlo e non viceversa e naturalmente il nostro presidente Serge Thomas Boninot. Naturalmente forse non sono io la persona più adatta in realtà a parlare di Tommaso d'Aquino in quanto filosofo, concordo perfettamente con queste identificazioni, di fatto comunque la si pensi, qualunque sia l'orientamento confessionale o ideologico, Tommaso d'Aquino è stato non solo il teologo ma anche il filosofo italiano che ha avuto il maggior impatto a livello mondiale e lo dimostrano come mi capita spesso di ripetere tutte le istituzioni che ancora nel mondo tutte le università che portano il nome di Tommaso d'Aquino però sono particolarmente grato perché c'è la possibilità di parlarne appunto in un contesto istituzionale qual è quello della biblioteca della Camera e quindi della Camera dei deputati stessi quindi veramente in un contesto che in qualche modo rispetta quella che è l'identità anche istituzionale di Tommaso per questo sono grato all'onorevole Presidente e al Ministro vorrei anche ricordare che il frate Domenicano che convince il giovane studente Tommaso d'Aquino a Napoli Tommaso si è sempre sentito napoletano profondamente napoletano convince il giovane Tommaso d'Aquino a entrare nell'ordine dei frati predicatori dei dominicani così sottraendolo a una carriera ecclesiastica di tutt'altro tipo doveva entrare in un ordine pauperistico si chiamava Giovanni di San Giuliano allora credo che forse non sia del tutto magari una coincidenza quella che da questo toponimico mi dirà c'erano soltanto due frati predicatori in quel momento nel regno di Napoli perché Federico II aveva espulso tutti gli ordini mendicanti ma aveva concesso soltanto a due frati dominicani in deroga di restare uno appunto era Giovanni di San Giuliano e se Tommaso è diventato un dominicano e se è diventato anche un grande studioso perché entrare nell'ordine e poi fare carriera nell'ordine dominicano significava lo ha portato a diventare appunto un grandissimo teologo e filosofo lo si deve appunto a Giovanni di San Giuliano e mi auguro che questo toponimico medievale sia in connessione appunto con l'impegno adesso del ministro quelle poche cose che vorrei dirvi oggi riguardano l'idea stessa del tomismo ora tomismo come tutti gli ismi nella storia della filosofia io avrò un approccio devo dirlo appunto molto modesto quale da storico e non un approccio ideologico confessionale ecco come tutti gli ismi ovviamente è una strazione il tentativo e il risultato di tentativi che cercano di fissare alcune determinate caratteristiche o almeno una serie di tratti distintivi di una determinata tradizione e come tutti gli ismi anche il tomismo di fatto però incarna un'etichetta fluida storicamente mutevole sempre cangiante che ha volto di volta in volta in periodi diversi a dispetto appunto del tentativo di fissare dei caratteri ben definiti in realtà degli aspetti persino contrastanti tanto che è oggettivamente difficile da un punto di vista storico dire quali siano state le caratteristiche costanti che abbiano identificato la tradizione tomista a differenza di tutti gli altri ismi aristotelismo platonismo idealismo marxismo il tomismo però ha due caratteristiche particolari la prima è che è una riflessione è una tradizione che ha sempre riflettuto molto sugli stessi meccanismi di costituzione cioè sin dal medioevo per arrivare a tutta la neoscolastica novecentesca tutti i tomisti si sono esattamente posti il problema che cosa vuol dire essere tomisti cosa che è molto meno praticata diciamo in tutte le altre tradizioni che sono identificate con degli ismi e la seconda caratteristica è che è un ismo molto più sducciolevole per così dire e ideologicamente molto più sensibile rispetto a tanti altri ismi quali possono essere appunto aristotelismo o platonismo e questo perché è legato ad alcune decisioni del magistero delle scelte che ovviamente hanno orientato positivamente ma anche di riflesso da parte dei critici ovviamente negativamente la storia della ricezione di Tommaso il punto culminante dico una cosa a tutti ben nota è l'enciclica Eterni Patris di Papaleone XIII del 4 agosto 1879 in cui Tommaso d'Aquino veniva proposto come il punto di riferimento più autorevole per tutte la formazione cattolica quindi per tutte le scuole superiori per tutte le università pontifici e poi le altre università cattoliche che sarebbero state fondate da lì a dopo la motivazione che Papaleone XIII dava per questa scelta in sé particolarmente interessante cito soltanto un breve passaggio dell'enciclica per la verità soprattutto i dottori scolastici emerge come guido e maestro Tommaso d'Aquino San Tommaso d'Aquino il quale come avvertì il cardinal Gaetano poiché tenne insomma venerazione gli antichi sacri dottori per questo ebbe in sorte in certo modo l'intelligenza di tutti quindi il valore in qualche modo paradigmatico di Tommaso viene identificato esattamente nella sua capacità di confrontarsi di essere stato in dialogo con tutta la tradizione precedente l'aristotelismo è stato ricordato però saremmo ingiusti verso Tommaso se dicessimo che Tommaso è solo il campione dell'aristotelismo cristiano in realtà Tommaso ha dialogato in maniera molto profonda con tutta la tradizione neoplatonica non si comprenderebbe Tommaso se per esempio non si capisce il peso che Proclo ha avuto su Tommaso tramite l'obserdo Dionigi e tramite il Libre de Causis e ha dialogato tantissimo con i falassi far arabi con Avicenna che gioca un ruolo importante per il suo concetto di metafisica ma anche con lo stesso Averroè è vero che nelle raffigurazioni rinascimentali Tommaso Aquini è sempre visto come l'avversario di Averroè in qualche modo colui che lo schiaccia o comunque lo riporta sotto i confini della ragione ma in realtà il rapporto di Tommaso con Averroè è un rapporto molto più complesso e molto spesso è un rapporto di arricchimento non soltanto di critica il pontefice Leone XIII auspicava che si continuasse a propagare la dottina di Tommaso il più largamente possibile per il bene della società e a incremento di tutte le scienze ora questa decisione di Leone XIII ebbe come dicevo e sono a tutti noti una serie di conseguenze immediatamente positive per esempio l'inizio l'avvio del progetto di edizione critica delle opere di Tommaso d'Aquino che non a caso si chiama Commissione Leonina diciamo la commissione che ne cura l'edizione che adesso ha sede a Parigi purtroppo ha lasciato l'Italia ma è che dura ancora sono circa 150 anni in che l'edizione di Tommaso è in corso la fondazione di molteplici istituti università appunto legate al nome di Tommaso d'Aquino ebbe come effetto negativo il fatto che Tommaso venisse invece in qualche modo marginalizzato ghettizzato in tutti gli istituti superiori non cattolici c'è stato nel novecento una specie di varicazione tra la grande tradizione neotomista e neoscolastica un nome su tutti Gilson per dire sia in Europa che in Nord America e il fatto invece che la filosofia medievale nel suo complesso e Tommaso d'Aquino in particolare venisse un po' marginalizzate o ghettizzate in gran parte delle università pubbliche proprio perché Tommaso veniva considerato in qualche modo soltanto come un appannaggio una proprietà del pensiero e della tradizione cattolica ci sono però due cose da ricordare secondo me a questo proposito la prima è che la decisione di Papa Leone XIII in realtà in parte è stato già detto non faceva altro che coronare una serie di scelte precedenti fatte già dal Medioevo e che confluivano appunto nella scelta poi della sancita dall'Eterni Patris probabilmente ne riparlerò tra breve un punto veramente di svolta era stato l'allardoabilis Deus di Papa Urbano V del 31 agosto 1368 in cui il pontefice indirizzandosi in particolare la comunità propria di Tolosa aveva auspicato anzi aveva in qualche modo domandato in maniera molto secca i niungibus aveva usato in latino di sforzarsi con tutte le forze totis viribus di ampliare la dottrina di Tommaso ecco il verbo ampliare è abbastanza significativo di per sé perché non si trattava semplicemente di ripeterla o propagarla ma di utilizzarla come punto di partenza per sviluppare appunto quella che era la tradizione della teologia e anche della filosofia cristiana quindi da questo punto di vista la scelta di Leone XIII coronava ripeto una lunga tradizione precedente l'altro aspetto che invece conviene ricordare è che forse molti di noi hanno l'idea che Tommaso sia stato sempre un pensatore in qualche modo riconosciuto come tale consacrato il campione appunto dell'ortodossia e invece si farebbe torto a Tommaso non riconoscerne la forza in qualche modo di rompente o rivoluzionaria che ebbe nel Medio Rivo stesso già in vita e poi subito dopo la morte in realtà la biografia intellettuale di Tommaso è segnata da contrasti molto profondi ricordo che il giorno della lezione inaugurale di Tommaso ecco gli fu impedita di farla perché fu picchettato ecco da che esistono le università nel Medioevo esistono i picchetti le occupazioni gli sciope quindi non è una cosa diciamo dal 68 in poi ma esisteva già nel Medioevo e di fatto Tommaso dovette ritardare addirittura l'ingresso nel consorzio dei maestri parigini proprio per l'opposizione in questo caso era l'opposizione del cleo secolare ai maestri mendicanti dal punto di vista dottrinale in realtà in qualche modo Tommaso alcune tesi di Tommaso d'Aquino figurano nell'elenco delle proposizioni condannate dal vescovo di Parigi a Tiantampier il 7 marzo 1277 e alcuni maliziosi pensano che la data di questa famosa condanna 7 marzo non sia stata casuale si voleva veramente sottolineare a tre anni di distanza dalla morte di Tommaso che sotto l'obiettivo di colpire dei maestri della facoltà delle arti in realtà si voleva colpire anche la memoria del maestro dominicano un mese dopo un confratello di Tommaso il maestro inglese Killworthy archivessco di Canterbury condanna alcune tesi esplicitamente di Tommaso d'Aquino e questa stessa condanna viene ribadita negli anni successivi in Inghilterra dal successore di Killworthy come archivessco di Canterbury cioè il francescano Peckham che aveva più volte si era scontrato già in vita più volte con Tommaso e quindi gli inizi di Tommaso non sono sotto il segno immediato della percezione della ortodossia per così dire tommasiana io amo sempre citare quello che è un po' un paradosso noi siamo abituati a leggere il decimo canto del paradiso dantesco in cui appunto Dante incontra la prima ghirlanda dei sapienti dando per assolutamente scontata la presenza di Tommaso d'Aquino e invece interrogandoci su quella enigmatica di Sigiri di Brabante ma se fossimo stati all'epoca di Dante nei primi due decenni del XIV secolo probabilmente la domanda non dico che sarebbe stata inversa ma quasi nel senso che non risultava quasi nessuno che Sigiri fosse stato condannato eretico o altro mentre Tommaso non era stato ancora canonizzato quando Dante muore nel 1321 Tommaso non è ancora beato quindi è una scelta dantesca quella di collocarla senza esitazioni nel paradiso c'era già evidentemente grande stima e ammirazione per Tommaso ma non era stato ancora canonizzato la canonizzazione nel luglio del 1323 due anni dopo il Liverscovo di Parigi Etienne Bourget si sente in dovere di dire che le tesi di Tommaso sono immuni dalla condanna del suo predecessore Tampiede nel 1277 il che vuol dire che in questi 50 anni c'era ancora un sospetto di eterodossia per così dire nei confronti delle tesi tommasiane quindi è interessante vedere come la costituzione dell'autorità di Tommaso sia un processo storico controverso e per questo ancora più significativo ancora più importante e non è un caso che il biografo di Tommaso Guglielmo di Tocco che ha giocato anche un ruolo importante nella canonizzazione ricordi come l'insegnamento di Tommaso sia stato percepito come una novità assoluta nel presentare l'inizio dei corsi parigini di Tommaso c'è un'anafora una ripetizione costante del nuovi argomenti nuove dottrine nuove opinioni e nuovo non è nel Medioevo un termine neutro novus è ovviamente il segno dell'avvento di qualcosa di diverso ma è anche spesso visto come qualcosa di inquietante di pericoloso che comunque disturba e in effetti ripeto faremmo torto alla statura intellettuale di Tommaso se lo considerassi un personaggio assolutamente tetragono e non invece qualcuno che ha realmente introdotto tutta una serie di novità ma allora quali sono di fatto queste novità il fatto è che come dicevo all'inizio dottrinalmente non tutti sono immediatamente d'accordo sul comprendere quali siano le tesi fondamentali di Tommaso e questo è cambiato nel corso dei secoli al momento della morte di Tommaso la tesi che identifichi immediatamente i primi discepoli di Tommaso è quella tecnicamente dell'unicità della forma sostanziale può sembrare una formula stratta in realtà è veramente una delle tesi più care a Tommaso ed è quella per cui è condannato in Inghilterra cioè l'idea che l'anima razionale sia l'unica forma del composto umano contro tutto quello che pensano i francescani pensavano i francescani o anche altri dominicani si potrebbe dire che appunto un tema strato in realtà ha una portata molto profonda perché l'idea che l'anima razionale sia l'unica forma del corpo umano significa che Tommaso ha una fiducia straordinaria nell'unità psicofisica dell'uomo Tommaso è veramente uno dei pensatori più radicalmente antidualisti della storia dell'Occidente cioè si sarebbe veramente intorto nell'immaginare Tommaso come un campione della separazione per esempio dell'anima rispetto al corpo tanto che c'è stata anche una fase della riflessione teologica di Tommaso in cui persino a proposito della visione beatifica cioè del momento in cui finalmente l'anima dovrebbe godere del bene supremo Tommaso osserva che nello stato di separazione questa felicità non è ancora piena perché c'è una sorta di nostalgia dell'anima per il proprio corpo questo a difesa di questa tesi veramente molto forte molto unitaria dell'uncità della forma sostanziale questo diciamo nei primi decenni dopo la morte di Tommaso almeno sino al concilio di Vienne 1311 1312 nel secolo successivo l'interesse verso le dottrine di Tommaso piega in un'altra direzione per esempio il modo di intendere l'essere e il rapporto con l'essenza che sarà ripreso in forme diverse anche dal neotomismo del 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 novecento oppure i rapporti tra la volontà e l'intelletto che è un altro tema molto delicato cioè perché anche qui possiamo fare un discorso teorico ma possiamo andare immediatamente alle implicazioni più immediate cioè in fin dei conti perché sbagliamo perché pecchiamo perché commettiamo degli errori nel nostro agire pratico è una questione di volontà nel senso che possiamo conoscere benissimo che cosa è bene cosa è il male ma la nostra volontà si orienta in un altro senso oppure una questione di difetto di conoscenza dell'intelletto che era fondamentalmente l'ideale greco si sbaglia l'intellettualismo socratico e platonico perché non si conosce il vero bene e Tommaso ha una posizione molto equilibrata su questi due aspetti però sicuramente ritiene che per esempio comunque la volontà non possa muoversi da sola contrariamente a quello che per esempio pensavano i francescani al proprio tempo abbia bisogno di un impulso originario che Tommaso colloca in Dio stesso e abbia inevitabilmente bisogno della presentazione dei beni da parte dell'intelletto secondo la lezione di Aristotele e anche questo viene molto discusso nel quattordicesimo secolo ci sono ancora francescani che considerano Tommaso un eretico per questo motivo perché lo considerano un determinista dal punto di vista dell'azione morale oltre che perché per il fatto che Tommaso non è stato mai particolarmente entusiasta nei confronti dell'immacolata concezione ci sono dei francescani che scrivono al Papa chiedendo di ritirare la canonizzazione di Tommaso d'Aquino perché lo considerano appunto ai limiti dell'ortodossia e addirittura considerano eretico il Papa che non avrebbe fatto che non si fosse rifiutato di farlo e quindi anche questo mostra come di secolo in secolo il tomismo sia diverso è inutile ripercorrere tutte le fasi mi limito soltanto a ricordare altre stagioni nel rinascimento l'epoca dei grandi commentatori di Tommaso e poi soprattutto dopo la scoperta del nuovo mondo il tema principale dell'attenzione verso le dottine di Tommaso diventa la questione della legge naturale e del diritto delle genti in fin dei conti non è casuale che i domenicani si siano impegnati in prima linea per la difesa dei diritti naturali delle popolazioni indigene dipende anche questo da una determinata concezione della politica della legge naturale dei diritti che derivava almeno immediatamente dagli scritti di Tommaso d'Aquino nel Seicento troviamo un Tommaso e nel Seicento tardo veramente insolito o inaspettato cioè Tommaso è per esempio largamente utilizzato dai jansenisti per una concezione della grazia che si oppone alla diffusione delle dottrine gesuitiche o del moninismo anche qui non ci interessano diciamo le coordinate del dibattito in quanto tali ci interessa però una cosa molto importante cioè che Tommaso ritiene in effetti intorno al problema della grazia e della predestinazione che senza un movimento iniziale che viene da Dio in realtà la nostra volontà non si indirizzerebbe mai verso una serie di scelte corrette è inutile arrivare appunto a ripercorrere tutta la storia nei secoli successivi sino al novecento proviamo però a capire allora che cos'è che dovrebbe identificare un tomista visto che la storia del tomismo è stata sempre così complessa tra i tanti tomisti che si sono interrogati a questo proposito forse uno di quelli più meritevoli di interesse è un dominicano portoghese ma di origine di famiglia francese cioè Joao Poinsot che aveva scelto entrando nell'ordine di chiamarsi appunto Giovanni di San Tommaso nel 1643 pubblica un cursus teologicus che è preceduto da un trattato sulla provazione e l'autenticità della dottrina angelica di San Tommaso e si chiede esplicitamente la domanda di cui ci stiamo occupando cioè che cosa vuol dire essere etomista e la sua scelta è quella di non puntare in direzione di dottrine determinate ma di puntare su alcuni segni su alcuni segni su alcuni elementi che caratterizzerebbero l'attitudine di tutti coloro che vogliono ispirarsi alle dottrine di Tommaso d'Aquino quali sono questi segni molto rapidamente in primo luogo quelli che Poinsor Giovanni di San Tommaso chiama la continuazio e la desio cioè l'idea che ci si iscrive in una tradizione una tradizione non si fonda in qualche modo ci si iscrive in una tradizione e la si prosegue si aderisce quindi nessuno potrebbe per così dire essere considerato un tomista se non si confronta con coloro che nel passato si sono già considerati tali il secondo segno la seconda caratteristica anche qui uso diciamo come slogan i termini latini usati da Poinsor affectus conatus labor nessuno è un buon tonista se non ama le dottrine di Tommaso l'affectus se non si sforza di comprenderle il conatus se non si impegna intellettualmente a comprenderle il labor inteso come lavoro intellettuale la terza caratteristica è quella che un buon tonista non dovrebbe mai pensare per esempio nell'insegnamento alla propria fama o alla propria brillantezza ma dovrebbe invece avere di mira sempre solo quella dell'autore commentato esposto cioè Tommaso stesso il quarto segno ci arriverò subitissimo nelle conclusioni forse il più importante e cioè che non è soltanto sufficiente attenersi alle conclusioni di Tommaso anzi molto spesso le conclusioni di Tommaso possono anche essere modificate l'aspetto più importante è comprenderne la struttura argomentativa la struttura razionale non è un buon tonista quello che si limita a ripetere le tesi di Tommaso senza aver capito le raziones cioè gli argomenti che hanno condotto Tommaso a formularle quindi se non ripercorre con la propria ragione quello che è stato il percorso di Tommaso stesso e Giovanni Santomaso scriveva sine razione nec scienza nec doctrina senza l'argomentazione razionale non ci può essere né scienza né dottrina e infine il quinto segno è l'idea che un buon tonista dovrebbe sempre avere di mira la maior unitas e la concordia cioè l'idea che non bisogna mai essere divisivi nel leggere i testi di Tommaso bisogna sempre mirare in qualche modo a mantenere la concordia della tradizione stessa perché la divisio in doctrina veritatis sempre suspecta essa cioè qualsiasi divisione in materia di verità è sempre vista in maniera sospetta ora e mi avvio rapidamente alle conclusioni la cosa che potrebbe essere più interessante all'interno di questa disamina di Giovanni Santomaso è che come abbiamo appena visto non c'è nessuna indicazione precisa di una tesi che bisognerebbe mantenere con fedeltà assoluta c'è una serie di atteggiamenti questo giustificherebbe anche il fatto che il tomismo si è presentato sotto vesti diverse in epoche diverse privilegiando conclusioni spesso radicalmente diverse mi limito ad accennare soltanto uno o due esempi il primo è appunto quello di come interpretare l'essere in tutto il novecento grandissimi filosofi e storici della filosofia citavo prima Gilson ma anche grandissimi filosofi neoscolastici hanno sempre pensato che l'idea centrale di Tommaso fosse quella di rivendicare tramite l'essere la contingenza delle creature l'essere l'atto appunto più intimo delle cose stesse che viene donato da Dio e sta a indicare per così dire la contingenza creaturale probabilmente i primi tomisti e Tommaso stesso avevano una visione dell'essere un po' differente cioè l'essere in realtà che cosa indica il fatto di dire che Dio sia il puro essere sussistente le creature abbiano l'essere probabilmente per Tommaso indicava l'idea che Dio è qualcosa che non ha un contenuto oggettivabile non è un oggetto di pensiero al pari di tutti gli altri oggetti che possono essere conosciuti tramite le nostre facoltà conoscitive non soltanto per un nostro difetto ma perché Dio per la sua infinità e la sua purezza rifugge per così dire sfugge a qualsiasi tentativo di oggettivazione dal punto di vista dottrinale quindi quello che diventa caratteristico delle creature in cui c'è una composizione tra l'essere e l'essenza non è tanto una mancanza quanto una forma di composizione ulteriore cioè le creature possono essere pensate in termini oggettivi quindi quello che distacca tutto il mondo creato da Dio non è tanto un difetto nella metafisica di Tommaso ma una composizione ulteriore quindi qualcosa che si aggiunge e si in questo modo ovviamente tutto l'universo creaturale si stacca dall'assoluta semplicità divina e l'altro motivo secondo me che viene trasformato ma è interessante per vedere come il tomismo appunto subisce questa serie di evoluzioni è proprio quello già citato in precedenza relativo ai rapporti tra l'intelletto e la volontà torno a dire perché sbagliamo cioè è chiaro che Tommaso costruisce un'etica delle virtù sulla base aristotelica è stato ricordato poc'anzi però se dovessimo restare assolutamente fedeli ad Aristotele non riusciamo mai a spiegare per esempio il peccato degli angeli gli angeli sono creature epistemicamente perfette vedono già Dio vedono già il bene supremo non hanno nessuna opacità conoscitiva non sono opacizzati né dallo schermo del corpo né dalle passioni ma è possibile che un angelo possa essersi ingannato e aver sbagliato e aver deciso di cadere e qui Tommaso ha veramente una delle risposte più sofisticate e interessanti gli angeli non hanno peccato per superbia ignoranza non si può pensare che le creature intellettualmente più perfette abbiano commesso un errore un'ingenuità di questo tipo hanno peccato hanno sbagliato perché hanno pensato di voler amare Dio in maniera autonoma senza aspettare che il primo passo per così dire fosse quello della grazia divina e anche questo voglio dire ci mostra un Tommaso probabilmente diverso da alcune concezioni per così dire più naturalistiche o semplicemente di schiacciamento per così dire a quella che poteva essere l'etica aristotelica se dovessi concludere dovessi esprimere una tesi per quello che vale cioè nulla ma pienamente personale su che cos'è il cosa potrebbe significare essere Tommisti al di là ripeto di qualsiasi opzione confessionale ideologica perché non è su questo che mi è sempre piaciuto lavorare beh io direi che è proprio questa idea che Poinsot indicava come il quarto segno di aderenza o di adizione al tomismo cioè l'idea di entrare nel modo di argomentare e nella maniera di porre i problemi che è tipica di Tommaso noi non possiamo aspettarci che Tommaso d'Aquino ci abbia dato delle risposte valide in ogni epoca questo sarebbe ingenuo dal punto di vista sia storiografico che filosofico quello che possiamo fare è invece cercare di rispettare lo spirito con cui affrontava i problemi e questo spirito emerge per esempio in maniera secondo me paradigmatica nel commento alla metafisica al terzo libro quando Tommaso in maniera molto esplicita dice che chi non si pone prima dei dubbi non potrà mai cercare la verità si dice che il dubbio metodico su una creazione cartesiana della filosofia moderna così non è e chi non si pone il dubbio è come il viandante che non sa qual è la meta e quindi non sa se fermarsi o proseguire e la verità è tale se resiste al dubbio non è una una difesa del relativismo dello scetticismo tutt'altro è l'idea che emerge in tutta la pratica di insegnamento e di scrittura di Tommaso che noi siamo esseri razionali siamo animali politici e razionali e siamo tenuti a non derogare mai a questo obbligo della ragionevolezza e della razionalità ecco forse per me essere Tommisti è appunto rimanere fedeli a questo impegno a dialogare e a cercare di essere sempre razionali e ragionevoli vi ringrazio grazie grazie professor Porro per questa disamina profonda densa e anche che lascia veramente tanti spunti di riflessione mi piace semplicemente sottolineare come la virtù della prudenza questo ponte tra le virtù morali e quelle dianoetiche intellettuali e un po' forse quello che echeggia in questa sua relazione come un tratto fondamentale del carattere del Tommaso pensatore Tommaso uomo colui il quale indaga i limiti della ragione umana cercando di trovare quello che la ragione può farci sempre intuire magari mai comprendere pienamente della ricchezza di ciò che si dispiega di fronte a noi dal punto di vista metafisico etico politico ecco tutte le dimensioni dell'umano e della trascendenza come si dispiegano di fronte a chi cerca di lavorare su se stesso sulla propria mente facendo un'opera di appunto studio fatica e si iscrive in questa tradizione anche le due fonti della rivelazione sono la scrittura e la tradizione ma la tradizione in questo senso può avere un ruolo preeminente perché ciò che ci accompagna nell'indagine è anche di ciò che può essere considerato come rivelato e dal punto di vista del filosofo probabilmente questo si può descrivere come pratica di virtù intellettuali e ad esempio del ponte prudenziale quindi grazie per questo contributo adesso passo a introdurre il presidente della pontificia accademia di San Tommaso d'Aquino nonché per tre mandati nove anni decano della nostra facoltà di filosofia il padre Serge Thomas Bonino che ha avuto tantissimi incarichi ha insegnato a Tolosa diverse materie è stato appunto decano della nostra facoltà di filosofia fino al 2023 è stato segretario della commissione teologica internazionale e anche ha diretto la Rebuto Mist e tra le sue tante pubblicazioni a me piace ricordare un brevissimo suo scritto sui tre modi di essere tomista in cui lui vi permetto di dire proprio semplicemente questo descrive come una via da evitare di approccio al tomismo è quello del tomismo archeologico sintetizzo brevemente cioè considerare Tommaso quasi come una statua da venerare laddove la sua dottrina è appunto quello che anche il professor Porro diceva è un metodo di indagine instancabile di analisi di comparazione tra visioni della verità non opinioni ma visioni della verità che portano a un approfondimento e una crescita intellettuale continua del filosofo e del pensatore in generale l'argomento su cui il padre Bonino ci appunto intratterrà è dignità della vita politica secondo Sant'Omaso prego onorevole presidente professore ministro reverendi padri gentili signori e signori nato ai confini dello stato pontificio e del regno di Napoli allora parte dell'impero la vita di Tommaso d'Aquino fu dall'infanzia segnata dai grandi conflitti politici di quel tempo soprattutto del conflitto cronico tra il pappato e l'impero su questo punto lo dico a passant l'Aquinate a differenza della Lighieri è rimasto impermeabile all'ideale imperiale della monarchia sopranazionale comunque una volta cresciuto la sua vocazione di teologo dedicato a scrutare l'intelligibilità del progetto divino della creazione e della salvezza lo portò a indagare la natura dell'ordine politico perché la salvezza cristiana riguarda la persona umana in tutte le sue dimensioni non ultima quella politica inoltre nel contesto del 200 un'epoca in cui la fede imbeveva intimamente tutto il tessuto della vita sociale culturale politica le sue competenze teologiche furono messe a frutto non di rado dai leader della vita politica così nel 1266 su richiesta del re latino di Cipro fra Tommaso scrisse il De Regimine Principum un tipo di specchio del principe in cui si poteva contemplare per imitarlo il viso del buon governatore o ancora nel 1271 la duchessa di Brabante consultò il frate dominicano sulla legittimità morale della politica fiscale riguardo gli ebrei per portare avanti questa riflessione sulla vita politica la Quinate attinge a due fonti la prima è come si poteva aspettare la ricchissima tradizione cristiana sull'argomento dalla Bibbia agli scritti dei padri della Chiesa soprattutto Agostino la seconda è più originale in effetti Tommaso non esita a ispirarsi alla politica di Aristotele allora appena tradotta in latino come si sa per Tommaso la grazia non distrugge la natura non distrugge la ragione ma la risane la porta a compimento inoltre è convinto che cito ogni verità da chiunque sia detta proviene in ultima analisi dallo Spirito Santo pertanto nostro Tommaso accoglie con discernimento certo ma con entusiasmo il contributo razionale del pensiero politico greco avvantaggio della sua sintesi di sapienza cristiana sapienza parola chiave fra Tommaso è un amante appassionato della sapienza se non fosse stato un teologo scommetto che sarebbe stato un architetto avendo un senso così sviluppato dell'ordine dell'equilibrio e delle proporzioni sapientis è ordinare spetta al saggio portare ordine in altre parole intuire l'unità nella moltiplicità intuire il senso nel caos apparente qual è dunque il posto della politica nella visione sapienziale di Tommaso Tommaso è teologo il teologo parte da Dio Dio è l'alfa e l'omega tutto viene da Dio tutto va a Dio tutto viene da Dio come creatore e tutto torna a Dio come sommo bene e fine ultimo ora per meritare il nobile nome di padre o di madre di famiglia non basta dare luce ai figli ma bisogna anche educarli portarli all'età adulta parimenti Dio non ha creato un universo già compiuto e pertanto statico ha creato un universo dinamico un universo che cresce si sviluppa raggiunge il proprio fine attraverso la storia grazie alla moltiforme attività delle creature in effetti per Tommaso le creature partecipano all'opera del governo divino cioè all'attuazione nel tempo della storia del progetto eterno della providenza lo scopo di questo governo è che ogni creatura e tutte le creature fioriscano pienamente a secondo della loro natura e che raggiungano l'unione con Dio infatti ogni creatura è come un riflesso dell'infinita bellezza del creatore cosicché più la creatura diviene se stessa vale a dire più fiorisce più si avvicina a Dio più somiglia a Dio più si unisce a Dio più dà gloria a Dio questo si applica a tutte le creature ma l'uomo creato a immagine di Dio è chiamato a unirsi al creatore in modo più personale attraverso la conoscenza e l'amore pertanto l'uomo viene governato da Dio in modo del tutto specifico più precisamente Dio per governarci si fa nostro legislatore ci governa per mezzo della legge in effetti per Tommaso la legge non è come troppo spesso si crede nella filosofia giuridica moderna non è una volontà che si impone a un'altra volontà è un'intelligenza che si rivolge a un'altra intelligenza per instruirla guidarla renderla capace di collaborare all'attuazione di un progetto comune e quindi per mezzo della legge avviene una sorta di transfusione di sapienza cito Tommaso ve sono creature che hanno la capacità naturale di muoversi da se stesse avendo il dominio dei propri atti e queste sono governate da Dio non solo perché mosse da Dio che opera internamente in esse come fa in tutte le creature ma anche perché sono da Lui indotte al bene e allontanati dal male con precetti e divietti con leggi con premi e con penne ora in questa opera di governo dell'universo Dio ha voluto liberamente generosamente associarsi le creature ha conferito ha conferito alle creature quella che San Tommaso chiama la dignitas cause la dignità di essere causa la dignità di agire su se stessi sul mondo sulla società per trasformarli e introdurre in essi il luminoso ordine della sapienza da filosofo San Tommaso non ha mai smesso di combattere l'occasionalismo cioè la teoria filosofica e religiosa che con il pretesto di esaltare l'assoluta grandezza di Dio riserva esclusivamente a Dio ogni attività svuotando in conseguenza le creature di ogni consistenza e autonomia no risponde Tommaso la gloria di Dio non consiste nel creare ectoplasmi né a fare il vuoti intorno a lui ma consiste nel dare alla creatura la capacità di collaborare con lui e in questa ampia prospettiva metafisica che si capisce meglio l'altissima dignità dell'uomo politico chi è incaricato di promuovere il bene comune è cooperatore di Dio in particolare attraverso le leggi che elabora e promulga nel contesto storico o culturale particolare della sua comunità infatti la legge naturale iscritta da Dio nel cuore dell'uomo definisce certo le grandi linee della sua umanizzazione integrale ma la legge naturale rimane in gran parte indeterminata generale spetta dunque al legislatore incarnare queste linee nella concretezza di una società storicamente particolare ma questa elevatissima visione della politica vale ancora a giorno d'oggi dal duecento tanti sconvolgimenti intellettuali culturali e politici hanno modificato la nostra autoconscienza come individui come società ben oltre i meri cambiamenti nella forma di governo dalla monarchia alla democrazia ad esempio San Tommaso pensava alla politica in primo luogo nel contesto della cristianità medievale e in secondo luogo nel quadro della visione olistica premoderna in cui le società umane erano armoniosamente inserite come parte nell'ordine cosmologico metafisico e religioso dell'universo ora questi contesti sono spariti da un lato la cristianità come figura storica particolare delle relazioni tra cristianesimo e società civile è solo un ricordo e dall'altro con l'avento della democrazia moderna segnata dal tema della sovranità popolare sembra che le società odierne non accettino più delle norme eterogene eteronome vorrei tuttavia suggerire che il pensiero politico di San Tommaso non ha perso tutta la sua attualità a patto che si sappia andare oltre la lettera del testo per riattivare i principi fondamentali mi soffermerò prima sulla sua concessione dell'autonomia della politica rispetto alla religione che ci permette di pensare al rapporto chiesa-stato al di là del modello della cristianità medievale e poi indicherò come i principi del tomismo ci aiutano ancora oggi a pensare la politica in una società ormai uscita dalla religione nel senso che le società democratiche non sono più strutturate e governate dalle norme religiose anche se una parte significativa dei cittadini condividono la fede religiosa primo punto dunque oltre il modello della cristianità per Tommaso l'articolazione tra la chiesa e la società politica temporale o secolare è una delle figure o delle applicazioni della tematica centrale dei rapporti tra grazia e natura come sappiamo nel pensiero politico medievale c'era al riguardo del cosiddetto problema chiesa-stato un'ampia gamma di soluzione che andava dall'assorbimento della società civile o politica nella chiesa modello della teocrazia dell'agostinismo politico fino all'assorbimento della società religiosa nella società politica modello del monismo politico ad esempio di Marsiglio di Padua Tommaso d'Aquino adotta invece un modello che chiamerei in riferimento alla cristologia un modello calcedonio senza confusione senza separazione da una parte Tommaso difende l'autonomia del potere politico secondo il principio fondamentale cito il diritto divino che si fonda sulla grazia non toglie il diritto umano che si fonda sulla ragione naturale dall'altra parte Tommaso riconosce una subordinazione indiretta del potere civile al potere spirituale quando è in gioco la salvezza delle anime su questo argomento mi piace rimandare a un testo particolarmente illuminante dalle questioni sdisputate e deveritate dedicato alla profezia si tratta una questione molto tecnica di determinare se la conoscenza profetica sia un fenomeno naturale oppure se si tratti di un dono soprannaturale della grazia per i molti pensatori musulmani e ebrei ben conosciuti da Tommaso la profezia era naturale era naturale perché era necessaria per la vita politica come è naturale la vita in società per loro qual è la funzione principale della religione la funzione della religione è di organizzare la vita sociale della comunità inseparabilmente civile civile e religiosa non per caso la religione veniva definita come la nostra legge una legge divina comunicata per mezzo del profeta Mosè o Mahometto questi pensatori identificavano la figura del profeta con quella del filosofo re di Platone ecco come Tommaso presenta la loro posizione cito il genere umano non si può conservare senza la società un solo uomo infatti non basta a se stesso nelle cose necessarie alla vita per cui l'uomo è naturalmente un animale politico come dice Aristotele ora la società non si può conservare senza la giustizia e la regola della giustizia è la profezia dunque è in atto nella natura umana che l'uomo possa giungere naturalmente alla profezia San Tommaso è d'accordo su tutto carattere naturale della vita sociale necessità della giustizia però non condivide l'ultima proposizione non condivida l'idea che la regola della giustizia sia la profezia cito la società degli uomini in quanto è ordinata al fine della vita eterna non si può conservare se non mediante la giustizia della fede il cui principio è la profezia ma poiché questo fine è soprannaturale e la giustizia ordinata a questo fine anche la profezia che ne è il principio sarà soprannaturale ma la giustizia mediante la quale la società umana è governata in ordine al bene civile bonum civile si può avere sufficientemente mediante i principi del diritto naturale inati negli uomini e così non è necessaria la profezia quindi bisogna distinguere accuratamente il fine soprannaturale quello proseguito dalla chiesa dal fine naturale della società politica consistente nella giustizia la pace e la vita virtuosa dei cittadini scopo raggiungibile per opera della ragione umana fondata sul diritto naturale la vita politica è e deve rimanere opus rationis un'opera della ragione umana quindi il tomismo non è intrinsecamente legato al modello della cristianità medievale ma che succede nella configurazione moderna della politica nella visione premoderna quella di Tommaso un po' come nelle matriosche russe la comunità politica veniva inserita all'interno di un'altra comunità più inglobante l'universo creato governato da Dio le cui strutture e leggi la città degli uomini doveva riflettere oggi invece l'uomo fa fatica a vedere l'universo come portatore di una saggessa divina di una legge eterna da imitare da attuare anzi per morti spetta piuttosto a noi di iniettare un significato in questo mondo assurdo indifferente edificando la comunità politica come una fragile bolla di razionalità in un universo irrazionale in un contesto culturale così diverso di quello di Tommaso non fa senso come diceva il professore Porro non fa senso ripetere le sue tesi politiche particolari però se mi permettete di usare una metafora il pensiero tommista somiglia a un albero come l'albero il tomismo ha delle radici i principi fondamentali e ha delle foglie le conclusioni vale a dire le applicazioni dei principi in un contesto storico determinato per illuminare con Tommaso i problemi politici odierni bisogna lasciare perdere tante foglie e ripartire dalle radici dai principi vale a dire dalla sua antropologia metafisica dalla sua concessione della vita sociale del bene comune delle finalità politiche dei rapporti tra la natura e la grazia proprio questo ha provato a fare nel novecento Jacques Maritain il quale ha voluto dare saldi fondamenti tomisti alle nuove aspirazioni democratiche dei popoli ai diritti umani eccetera il pensiero di San Tommaso ripeto non offre ricette politiche pronte per l'uso odierno ma ci invita a tenere presenti almeno tre punti e sarà la mia conclusione primo punto la sua dottrina della legge naturale come fonte di ispirazione e norma fondamentale per le leggi civili evidenzia la necessità di dare un fondamento pre-democratico alla democrazia vale a dire la democrazia si poggia su dei valori che in ultima analisi non dipendono dall'autodeterminazione democratica ma la precedono la democrazia non consiste solo nell'osservare delle regole formali procedurali ma ha bisogno di fondamenti sostanziali anzi la democrazia esiste si mantiene solo se vengono coltivati i suoi fondamenti morali con le loro radici antropologiche una certa idea dell'uomo della sua dignità dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna della relazione tra individuo e comunità eccetera secondo punto non spetta certo alla chiesa intromettersi nel gioco delle istituzioni politiche ma tocca ai cristiani mantenere vivo questo senso dei principi morali che fanno da fondamenti alla vita democratica inoltre nel testimoniare l'apertura della persona alla trascendenza il cristianesimo contribuisce alla salute della vita politica evitando di divinizzare sia lo Stato sia l'individuo terzo punto appunto di fronte alle sfide odierne dell'individualismo sociale e radicale di fronte alle minacce che pone alla coesione sociale riducendo la politica alla sola custodia dei diritti dell'individuo la riflessione politica di San Tommaso ricorda opportunamente che la finalità della politica è il bene comune come tale e in particolare la promozione dell'amicizia civile tra i concittadini forse oggi diremmo la fraternità in vista di una vita buona condivisa 750 anni dopo la sua morte San Tommaso rimane dunque una risorsa per promuovere forse per riscoprire la dignità della politica ciò facendo si avvera un genuino figlio della sua patria questa effervescente Italia che nel medioevo e dopo è sempre stata un laboratorio in cui alla duplice luce della ragione della fede sono germinate le forme più ardite di esperienze e di riflessione politiche che hanno plasmato la nostra civiltà europea grazie grazie a padre Bonino in primis per questo aggettivo questa effervescente Italia la prendo sia come una constatazione che è veramente bella penso che possiamo condividerla sia anche come un augurio in tempi che a volte ci sembrano grigi e oscuri pensare come il tomismo creativo alle radici dei suoi principi per trarre foglie nuove non ripetizioni dell'uguale pensare un'effervescenza italica che ha visto nel genio di Tommaso di Dante e di tanti altri delle declinazioni così belle così diverse ecco non può che essere uno stimolo a fare a operare in questo solco e mi piace prima di dare la parola per le conclusioni al ministro pensare a volte col presidente ci siamo intrattenuti su McIntyre e lui narrava delle sue molteplici conversioni questo filosofo ormai anziano vivente che è passato attraverso diversi autori tra cui appunto Aristotele e Tommaso e colui narrava la dico in sintesi che lui era passato a Tommaso d'Aquino perché aveva chiara che l'ideale moderno dell'autonomia non fosse sufficiente a descrivere la ricchezza dell'esperienza umana ma in particolare in quell'opera animali razionali dipendenti ecco identificare anche confrontandoci con altri mammiferi come i delfini che lui ama particolarmente la bellezza dell'essere umano nello scoprirsi originariamente figlio fratello legato in relazione originaria ecco secondo me anche una cifra che vedo nella relazione di padre Bonino e in alcuni diversi spunti che c'erano oggi è questa idea di una feconda scoperta della dipendenza reciproca che abbiamo tra di noi come un'idea concreta di questo bene comune che ci lega e quindi di nuovo sono lieto veramente tanto di questa iniziativa do subito la parola a Gennaro San Giuliano Ministro della Cultura per le conclusioni beh più che conclusioni diciamo considerazioni perché non spetta certo a me davanti a questo consesso così colto dare delle parole offrire delle parole definitive innanzitutto voglio ringraziare il presidente della camera sottolineo mio amico da antica data e col quale condivido anche un sentire culturale comune per questa iniziativa perché lo capirete il perché del ringraziamento lo capirete tra qualche istante per le parole che dirò vedete io non penso che il ministro della cultura debba come dire soltanto ordinare la distribuzione di risorse occuparsi della tutela del patrimonio che pure è importantissimo ed è una cosa che noi facciamo con la massima attenzione con la massima cura e con la massima determinazione ma debba pure partecipare come dire al dibattito politico pubblico ieri io ero all'accademia dei lincei dove sono intervenuto sul carteggio tra Benedetto Croce e Giovanni Gentile di cui tra pochi giorni ricorre l'anniversario dell'assassinio questa mattina ho partecipato all'università all'Umsa a un dibattito su fede e ragione tema molto complesso che poi tira in basso Sant'Omaso e oggi sono lieto di essere qui davanti a voi vedete la politica non è semplicemente un freddo strumento utile ad amministrare la res pubblica la politica è una missione interiore dove si intrecciano il desiderio di affermare dei valori che si ritengono desiderabili e la voglia di conquistare o difendere la propria libertà negli ultimi decenni abbiamo assistito al contrario ad un lento precipitare della politica fra le braccia di una burocrazia asettica dove i leader e i partiti politici erano costretti a confrontarsi su programmi all'apparenza in competizione ma a conti fatti pienamente sovrapponibili perché ogni ideale e valore veniva oscurato da un dibattito politico fagocitato da statistiche numeri percentuali e sondaggi e ho scelto di partecipare da queste considerazioni per offrire una riflessione su San Tommaso d'Aquino di cui si celebrano i 750 anni di cui occorre considerare che cosa la centralità del pensiero Tommaso lo dico subito è per me uno degli architetti del pensiero occidentale maestro di speculazione filosofica e interprete del grande Aristotele Benedetto Croce in un celebre saggio ci spiega perché non possiamo non dirci tutti quanti cristiani perché il cristianesimo ovviamente ha un suo anelito spirituale ma è anche qualcosa di intimamente collegato con la storia dell'Occidente ha fatto l'occidentalismo e la storia dell'Occidente la cultura è una visione condivisa da una comunità un popolo una società che si manifesta in usi e comportamenti sensibilità e credenze valori e simboli intorno ai quali ci si riconosce condividendo un origine e un destino la cultura è un processo non un dato cristallizzato e statico ma essa necessita di valori su cui incardinarsi e mi ha fatto piacere tantissimo le ultime riflessioni del presidente Serge Thomas Bonino quando ha fatto riferimento alla dottrina della legge naturale affermata da Tommaso le leggi l'organizzazione l'ordinamento deve fondarsi sulla legge naturale che poi sostanzialmente è quello che dirà secoli dopo Alexis de Tocqueville quando nella democrazia in America ci dice che le costituzioni vanno fondate sullo spirito delle leggi per me non esiste una legge universale che valga per tutti esiste in termini religiosi ma non in termini laici esistono le leggi ciascuna delle quali connessa con la tradizione col sentire con la spiritualità di ciascun popolo infatti ho preso nota storia e radici antropologiche di ciascuno io è noto che sono un conservatore e richiamo sempre l'etimologia del termine conservatore che viene spiegato da Prezzolini nel manifesto dei conservatori la parola conservatore viene l'antica parola indoeuropea che significa knavu chi era il knavu era colui il quale la notte guardava il fuoco nelle antiche tribù indoeuropee che si spostarono nella preistoria dall'Asia centrale verso l'Europa e cosa nota noi ci definiamo caucasici proprio perché veniamo siamo i discendenti di quei ceppi e di quelle tribù sia pur rimescolati in secoli di storia e il knavu guardava il fuoco affinché il fuoco non aggredisse la tribù che dormiva le fiere non aggredissero le persone che dormivano ovviamente è un simbolismo dove il fuoco che cosa indica indica i valori i miti fondanti indica la spiritualità di una comunità e poi prezzolini aggiunge il progressista è la persona di domani il conservatore è la persona di dopo domani perché colui il quale è chiamato a modernizzare una società salvaguardandone i valori Emil Durkheim studiando il livello di coesione di una società afferma che essa può sopravvivere solo se si costituisce come comunità simbolica nel saggio le regole del metodo sociologico afferma la società non è una semplice somma di individui al contrario il sistema formato dalla loro associazione rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri propri la convivenza fra gli uomini è possibile quindi solo se cementata da una visione esistenziale comune che si pone come fine il bene della società e come conseguenza naturale il bene del singolo anche lei ha richiamato il bene comune come obiettivo fondante della politica il concetto di cultura di società è quindi profondamente radicato nell'idea che solo dei valori condivisi quella predemocrazia preparino l'uomo a una conoscenza che si configura come un punto di partenza della formazione di una comunità per Tommaso è centrale il concetto di persona di individuo che non viene annegato in una massa indistinta perché le persone sono capaci di pensiero e di cultura scrive la vita attiva con la quale uno predicando insegnando comunica agli altri le verità contemplate è più perfetta della vita in cui si contempla soltanto in quanto presuppone l'abbondanza della contemplazione e così Cristo scelse questo genere di vita Tommaso è tanto un fine preeducatore nei consessi universitari quanto un predicatore chiaro e comprensibile nel rivolgersi al popolo e questa è la conseguenza di quella visione di cui dicevamo l'anima popolare di Tommaso è un monito agli uomini delle istituzioni affinché non trascurino mai la connessione con il mondo dei disagiati e dei non privilegiati coloro che devono essere i loro principali interlocutori il focus del loro agire politico Tommaso studiò la legge e la giurisprudenza cercando di indagare la natura del diritto e dello Stato le leggi umane e il rapporto fra etica e politica per Tommaso la verità si giunge solo per mezzo della ragione ma in accordo con la rivelazione cristiana la legge divina esiste ma convive nella vita eterrena con la legge naturale quella umana egli riconosce quindi la legge chiaro dello Stato ma nel farlo ci tiene a sottolineare quanto tra legge umana non debba mai essere divinizzata uno Stato che si crede investito di un compito divino apre le porte inevitabilmente a forme tiranniche e dittatoriali e lo abbiamo visto nel novecento quante volte è accaduto Tommaso afferma che il sovrano non può essere al di sopra della giustizia e della legge naturale e che deve avere sempre il bene comune come obiettivo dell'azione politica infatti scrive i re mirino anzitutto al bene comune perché si agiscono diversamente curando il proprio vantaggio non sono re ma sono tiranni così li ammonisce una lezione valida ancora oggi soprattutto nel contesto attuale in cui alcuni istituti sovranazionali hanno preteso a volte di far cessare come ontologicamente infallibili e non criticabili regole e leggi del tutto arbitrarie oltretutto capaci di incidere pesantemente sul vissuto di cittadini rassegnati e inermi per Tommaso l'etica è fondamentale poiché egli ricerca una virtù che va dal di là degli egoismi è il teorico della libertà che si deve conciliare con il senso di responsabilità il suo pensiero filosofico considera in relazione fra di loro il bene la verità e la bellezza per Tommaso la ragione umana non allontana da Dio e unità alla fede cristiana amplifica la coscienza civica verso la difesa della dignità della persona Tommaso è un santo con cui la scienza ha scelto di dialogare lui stesso ha scelto di dialogare il suo metodo il suo rapporto con la realtà la fiducia nella ragione nella logica lo hanno reso infatti una figura cara agli scienziati nei mesi scorsi io con alcuni operatori culturali che mi hanno sottoposto un progetto ho promosso alla Galleria Nazionale di Arte Moderna una mostra dedicata a Tolkien che è universalmente riconosciuto come uno scrittore di grande successo il cattolico Tolkien sapete che uno dei figli di Tolkien si fece sacerdote c'è stato un gran frastuono molti attacchi alla mia persona ma anche uno straordinario successo 80.000 visitatori che in una mostra dedicata a uno scrittore rappresenta quasi oserei dire un record in contemporanea c'era una mostra dedicata a Calvino grande autore che io amo e che invito ad andare a vedere a tutti quanti ma che non ha ottenuto lo stesso risultato ripeto grande autore Calvino detto questo quando mi è stato chiesto perché Tolkien io ho spiegato quella che secondo me è la ragione fondamentale di questa scelta e ho detto Tolkien ci trasmette alcuni valori il valore della comunità il valore della solidarietà perché i personaggi di Tolkien si aiutano fra di loro sono solidali ma soprattutto un valore quanto mai importante in questa fase storica la difesa dell'umano in non voler degradare gli esseri umani come si tende a fare oggi a mero codice a barre a meri consumatori ma ricordare come direi il tratto divino degli esseri umani Papa Benedetto XVI ha riconosciuto in San Tommaso un valido modello di armonia tra ragione e fede dimensioni dello spirito umano che si realizzano pienamente nell'incontro e nel dialogo tra loro come Benedetto XVI ha sottolineato durante un Angelus se conto il pensiero di San Tommaso la ragione umana per così dire respira dice Papa Benedetto si muove cioè in un orizzonte ampio aperto dove può esprimere il meglio di sé quando invece l'uomo si riduce a pensare soltanto ad oggetti materiali e sperimentabili e si chiude ai grandi interrogativi sulla vita su se stesso e su Dio si impoverisce il rapporto tra fede e ragione costituisce una seria sfida per la cultura attualmente dominante nel mondo occidentale l'idea della cultura come medium che dona senso e alimenta il legame sociale avendo come obiettivo la cura e la preservazione dell'umano con l'illuminismo inizia a riconfigurarsi mutando in una sorta di fideismo laico verso il progresso tecnologico per cui la scienza diviene lentamente un totem da adorare è il tempo in cui i valori vengono lentamente spodestati dal loro ruolo di creatori di senso sostituiti da un'idea di progresso che vede nei valori radicati nella persona e nella comunità un ostacolo al proprio processo lineare di sviluppo è l'inizio di un processo che giunge ai giorni nostri che pare non riuscire più a coniugare il necessario accrescimento delle conoscenze umane con l'altrettante imprescindibile attenzione verso la dimensione spirituale della persona e della società è l'idolatria della tecnica un'attitudine che ho provato ad estirpare dall'animo umano la prospettiva verticale l'afflato per l'indivisibile e l'incomprensibile è evidente che questa idea tradisce la radice medesima del concetto di cultura che è il proprio nucleo nella dimensione artigianale del coltivare cultura viene da colere quindi anche culto degli dei ossia il produrre nuovi frutti della conoscenza ma anche del culto ossia la contemplazione dell'esistente attraverso lo sguardo che si genera nel sentire interiore la cultura intesa come semplice proiezione dell'uomo verso il mondo esterno trascurando la sete intima di simboli che l'uomo ha bisogno di placare alimenta per tale motivo la crisi della cultura e provoca l'avanzare in un deserto interiore nel cuore dell'individuo i mistici in particolare Meister e Hart distinguono tra uomo interiore e uomo esteriore optando convintamente per il primo per l'uomo interiore il secondo un individuo del tutto immerso nel contingente della società privo di storia è quello che piace ai moralisti ai moralisti scrive Cioran piace soprattutto che cosa l'uomo superficie l'essere superficie le sorti progressivi hanno mostrato enormi crepe a tratti emergono le ferite di una sorta di nichilismo che ha ridotto il cittadino destinatario di diritti e di doveri a un mero codice a barre il cives protagonista del suo destino eredità del mondo greco e romano è stato annichilito e diluito nell'individuo massa figura ben descritta da Ortega e Gasset ecco del breve intervento che mi avete invitato a fare in occasione di questo importante evento ho inteso portare queste riflessioni per le quali poi Sant'Omaso diventa un pensatore di grandissima attualità le intuizioni di Sant'Omaso che possono essere utili a interpretare il presente e possono addirittura fornirci dei modelli verso cui tendere nel tentativo di trovare delle inedite soluzioni come diceva il professore nel suo intervento nello specifico sono esemplari le considerazioni di Sant'Omaso sul necessario rapporto fra etica ed economia sul legame profondo tra fede e ragione e sul limite da porre al potere dello Stato e della legge sugli individui sono insegnamenti di un maestro del pensiero oltre che di un caro santo della Chiesa riflessioni che ancora oggi si rinnovano nel confronto proficuo con il tempo presente grazie dell'attenzione grazie Ministro per queste parole e veramente siamo lieti di questa conclusione direi semplicemente che Tommaso come Tolkien forse hanno in comune la grande lode dell'amicizia questa forza così potente che lega gli umani anche diversi tra di loro e che penso abbia portato a organizzare questa iniziativa intesa come iniziativa di amicizia filosofica quindi grazie Presidente per questa idea e grazie a tutti voi per essere stati qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti